e che io quale ha tanti documenti che no perché ha tanti dei documenti che qua è incredibile e io faccio il filmato e qualche foto che poi insomma le dirò dove andranno a vedere in Italia non mi aveva mai messo io li ho trovati in Francia dove c'era il marciapiede invece di mettere questi che avevano fastidio e pedone quel mosaico là è un distributore che c'è di là poi ve lo faccio vedere chi gliel'ha fatto qualche infatti vedo eccellenza beh guardi sono stupito da quante cose lei ha raccolto e questa cos'è una pompa questa qui vecchia sì sì primi novecento bella vede la cascina come dicevo prima abbandonata era crollato tutto certo che vede qui come era conciata era crollato tutto sì e poi ho rimesso in piedi e adesso è così noi siamo qui adesso infatti ho visto dall'esterno lì dove ho parcheggiato vede la fotografia della farmacia col cartello benzina quindi Grazie.